eventi natalizi i commercianti chiamano il comune su programmi e iniziative incidenti stradali in dieci mesi ne sono stati rilevati 221 il dato riguardante l'ambito urbano è stato diffuso dalla questura di caltanissetta agricoltura regione pubblicata la graduatoria per le filiere corte e i mercati locali nell'ambito del programma di sviluppo rurale nuovo appuntamento con pedi pedi stasera alle ore 21 su tfn sport calcio ernesto torregrossa in gol con la maglia della nazionale venezuelana è l'ascom di caltanissetta che attraverso una nota chiede all'amministrazione comunale quali siano i programmi gli eventi previsti in città a poco più di un mese dalle festività natalizie giorni che si avvicinano e che come ogni anno vedono ripopolare temporaneamente le strade cittadine grazie a molti nisseni che vivono e lavorano in altre città che rappresentano per chi ha un'attività commerciale un'opportunità di lavoro in più proprio i commercianti guardando a realtà sia più piccole che più grandi di caltanissetta vorrebbero risposte in un momento in cui dopo i due anni della pandemia e l'attuale crisi economica scarseggiano le vendite nella nota richiamano il rischio e chiusura conseguente alla crisi attuale per molte aziende con la ricaduta su posti di lavoro in meno oltre a chiedere notizie su eventi illuminari e natalizie altra domanda che pongono all'amministrazione riguarda il coinvolgimento delle associazioni locali nelle iniziative e chiedono espressamente se saranno coinvolte realtà di altre città nessuna risposta intanto abbiamo ricevuto dall'assessore agli eventi Fabio Caracausi che abbiamo contattato per la replica e restiamo attualmente in attesa Rilevati 221 sinistri stradali in ambito urbano questo è il bilancio degli interventi eseguiti dai poliziotti delle volanti nel capologo Nisseno e nelle città di Gela e Niscemi nell'arco di tempo che va da gennaio a ottobre di quest'anno nel corso dei servizi di controllo del territorio Un dato che fa riferimento ad incidenti che hanno coinvolto persone e mezzi e che anche se ancora manca un mese e mezzo alla fine dell'anno al momento è leggermente inferiore rispetto a quello dell'intero 2021 pari a 281 in ogni caso bisogna anche tenere conto del fatto che il numero indicato dei sinistri avvenuti nelle strade cittadine riguarda soltanto quelli rilevati dalla polizia di stato un bilancio quindi che sicuramente tende ad aumentare aggiungendo anche quelli che hanno visto l'intervento delle altre forze di polizia Tirare le somme serve anche ad analizzare e monitorare la situazione così come si legge sui social della questura Nissena ci mostra quanto siano pericolose le strade delle nostre città se non si guida con prudenza La prevenzione infatti anche in questo caso assume un ruolo decisivo nella possibilità di diminuire il rischio di incidenti Per tale motivo vengono dati anche dei consigli agli automobilisti sui corretti comportamenti da seguire al volante La polizia di stato raccomanda quindi prudenza alla guida si precisa ancora rispetto dei limiti di velocità e attenzione alla segnaletica urbana specie nelle intersezioni, nei passaggi pedonali e in prossimità di scuole, ospedali e uffici pubblici Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha firmato ieri pomeriggio il decreto di nomina dei 12 assessori dell'Aggiunta regionale Questa mattina è avvenuta la presentazione a Palazzo d'Orleans dove il presidente Schifani ha firmato il decreto di nomina dei nuovi assessori davanti all'Assemblea regionale siciliana Ecco l'elenco completo con le relative deleghe Luca San Martino, catanese, 37 anni, assessore all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea Edmondo Tamayo, palermitano, 46 anni, assessore alle attività produttive Andrea Messina, catanese, 57 anni, assessore alle autonomie locali e funzione pubblica Elvira Amata, messinese, 53 anni, assessore ai beni culturali e all'identità siciliana Marco Falcone, catanese, 51 anni, assessore all'economia Roberto Di Mauro, agrigentino, 66 anni, assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità Nuccia Albano, palermitana, 72 anni, assessore alla famiglia, politiche sociali e lavoro Alessandro Arricò, palermitano, 46 anni, assessore alle infrastrutture e mobilità Mimmo Turano, trapanese, 57 anni, assessore all'istruzione e formazione professionale Giovanna Volo, nissena, 67 anni, assessore alla salute Elena Pagana, ennese, 31 anni, assessore al territorio ed ambiente Francesco Paolo Scarpinato, palermitano, 49 anni, assessore a turismo, sport e spettacolo Le funzioni di vicepresidente sono state attribuite all'assessore San Martino L'assessore Falcone è stato invece delegato alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del Dipartimento regionale della programmazione Finalmente si è conclusa questa fase abbastanza lunga non dovuta a me ma alle lungaggini procedurali per i condeggi degli eletti è perché la legge prevedeva il giuramento davanti all'assemblea e ho dovuto aspettare, ha detto Renato Schifani Da oggi si parte, ci aspettano appuntamenti di grandissima urgenza ed emergenza abbiamo un'agenda molto fitta Il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino ha rinnovato la sua scuola di assessori dopo l'addio di Luciana Camizzi con l'ingresso di Ettore Garozzo e di Varrando Alla luce di quanto è successo abbiamo chiesto come è cambiata la posizione dei singoli componenti del civico consesso nei confronti dell'amministrazione comunale Su 24 consiglieri comunali solamente Annalisa Petitto e Valeria Visconti hanno risposto alla domanda Giovanni Magri, Nina Schirmenti, Angela Caruso, Michele Doro, Federica Scalia, Anno Polidoro e Marco Matta contattati ci hanno risposto ma non hanno rilasciato dichiarazioni Marina Mancuso, come capogruppo consigliare dei 5 Stelle, ha dichiarato che il sindaco fin dal principio ha deciso in autonomia le scelte degli assessori e quindi anche in questo caso è che a giorni ci sarà un incontro col sindaco come movimento per affrontare l'argomento Lisa Faragi ha risposto che la sua posizione non cambia nei confronti del primo cittadino Oscar Aiello, Tilde Falcone, Fabrizio Di Dio ci hanno risposto di non poter rilasciare dichiarazioni essendo fuori sede. Infine nessuna risposta da parte di Giovanna Mulè, Gianluca Bruzzaniti, Calogera Dornetto, Salvatore Mazza, Salvatore Petrantoni, Michele Giarratana, Michele Tuminelli, Oriana Mannella, Adele Castellana e Gualtiero Guarino. Abbiamo condattato il sindaco Roberto Gambino per una sua risposta e ci farà sapere nella giornata di mercoledì. La mia posizione nei confronti del sindaco non cambia assolutamente, anzi ha sempre ancora di più dimostrato che i mantra del Movimento 5 Stelle, trasparenza e partecipazione, oramai non gli appartengono più. La mia posizione nei confronti dell'amministrazione a causa di questo rimpasto non cambia, è sempre la stessa. Giunta e sindaco non hanno un disegno politico, non c'è una visione politica, la città parla, le classifiche parlano, siamo in pieno stato di abbandono e degrado. Dopo alcuni giorni di silenzio e riflessione, Luciana Camizzi ha voluto dire la sua sull'avvicendamento a Palazzo del Carmine, che l'ha vista stromessa dal suo assessorato. Abbiamo sentito l'oramai ex assessore, che ha dichiarato di uscire a testa alta da una giunta comunale del tutto scordinata. Abbiamo condattato il sindaco Roberto Gambino per una sua risposta e ci farà sapere nella giornata di mercoledì. Cari concittadini, come avrete appreso dalla stampa, il 10 novembre il sindaco ha revocato le mie deleghe e nella stessa giornata ha nominato altri due assessori, aumentando così la compagina assessoriale da 8 a 9. Il tanto decantato nuovo modo di fare politica avrebbe dovuto consentire ad un assessore tecnico di espletare, di completare le attività che comunque erano in itinere e invece di interrompere bruscamente e senza particolari motivi la mia attività. Ho vissuto la mia esperienza da amministratore con grande onore e con grande senso di responsabilità, soprattutto verso i miei concittadini. Il mio operare è stato sempre improntato a principi etica o morali che nulla hanno a che vedere con biechi ed opportunistici giochi politici. Sono stata scelta anche in qualità di rappresentante dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti e il mio assessorato tecnico, il mio essere un tecnico, un dottore commercialista ed un revisore legale ha permesso di affrontare le deleghe, anche problematiche più rognose, sempre in sintonia con il sindaco, la giunta municipale e i consiglieri tutti. Evidentemente la mia abnegazione, il mio senso del dovere non sono stati apprezzati dal sindaco. Esco, credo, di uscire a testa alta da una giunta nei cui negli ultimi tempi era totalmente scoordinata. Spesso gli apprezzamenti venivano fatti solo per il singolo e non per l'operato dell'intera giunta. Voglio ringraziare i cittadini per le innumerevoli attestazioni di stima che ho ricevuto, sia da forze politiche che da singoli cittadini. Voglio dire a tutti che il mio impegno professionale, ma anche il mio impegno sociale, continuerà nei confronti della città e della collettività tutta. Del resto, dalle motivazioni che si leggono nel decreto di revoca, viene indicato, viene fatto riferimento alla mia professionalità, alla mia competenza, al mio senso civico, però per avvivare lo spirito della giunta è stato necessario sostituire la mia persona. Ringrazio tutti i nisseni e auguro l'in bocca al lupo ai due nuovi assessori. La regione siciliana ha stanziato un sostegno economico in questo momento di crisi alle filiere corte ai mercati di nicchia, per la valorizzazione dei prodotti identitari del territorio. È stata pubblicata la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili per ottenere il sostegno economico alla cooperazione di filiere orizzontale e verticale, tra operatori impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono 18 le aziende agricole fra associazioni, cooperative e consorsi delle varie province siciliane ad essere state ammesse ai contributi stanziati con il bando che ha previsto una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro. Scopo dell'avviso relativo alla sottomisura 16.4, filiere corte e mercati locali del programma di sviluppo rurale della regione siciliana, in linea con la strategia Farm to Fork dal produttore al consumatore, definita dalla Commissione Europea, è quello di creare e sviluppare filiere corte e mercati locali e sostenere le attività promozionali a raggio locale. L'obiettivo è inoltre quello di sostenere la creazione di canali di mercato nazionali e internazionali per prodotti di nicchia, ridurre il numero dei soggetti intermediari e infine favorire lo sviluppo economico di aree rurali marginali, creando opportunità di lavoro per gli operatori locali. Con l'attuazione di questa misura la regione Sicilia vorrebbe muoversi su due binari paralleli. Uno cercherebbe di correre sul senso di fiducia e di appartenenza al territorio da parte dei consumatori e l'altro sulla promozione di una filiera produttiva fortemente identitaria e intrisa di storia, cultura ed emozioni. Questa sera alle ore 21 su TFN, nuovo appuntamento con Pedipedi. Vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda. Amici di Pedipedi, ciao! Allora, oggi andiamo ad incontrare uno sportivo, ok? Quindi, vediamo, siamo in orario Gianluca? Penso di sì. Allora, intanto ricordiamo che alla camera numero uno c'è l'inossidabile e l'insostituibile Gianluca. Ecco, ve lo faccio vedere. Alla cameretta, di come dico io, però giusto per fare qualche ripresa, ci sono io e Roberto che vi porterò a conoscere le storie, i personaggi e i luoghi della nostra città. Allora, andiamo a bussare, vediamo se siamo in orario. Permesso? Entriamo. Oh, buongiorno! Eh? L'avete riconosciuto? Allora, io entro, buongiorno! Ma stai, va bene? Buongiorno, tutto a posto. Buongiorno, buongiorno. Mirko Scarantino. Allora, prima, un attimino Mirko, dobbiamo intanto microfonarti perché noi siamo così, siamo praticamente... Ah, subito... Sì, 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 sì. No, manco il tempo di esuto. No, perché sennò poi non si sente niente, dicono... E ci prendono a male parole, dicono, ah, sai, non si sentiva... Allora, questo lo puoi mettere in tasca. Ma ringrazio. Ecco, adesso siamo a posto. Allora, mi metto da questa parte. Come vedete, noi siamo proprio una live action. Ah, proprio così tutto sul momento. Sì, sì, sì. Neanche le scarpe ancora mi ero messe e già subito... Ma lo dobbiamo rifare questa cosa, no? Ma è che tra le undici e mezzo io mi stavo preparando. Ma là siamo in anticipo. È già lui. Ma che mi dici che siamo in orario? Siamo in anticipo. Vabbè. Come ho detto io, chissà, è questa. Che ci possiamo fare? È stata soltanto un amichevole internazionale prima dei mondiali di calcio, quella tra Venezuela e Panama, ma che ha regalato tante emozioni ad Ernesto Torregrossa. Esordio con gol, quella del bomber nisseno del Pisa, che è entrato a partita in corso, ha trovato il pareggio al 93esimo per la Sele Vino Tinto. Partito dalla panchina, nel primo tempo ha visto la sua nazionale andare in svantaggio, ma nella ripresa il CT Peckerman ha deciso di buttarlo in gambo e farlo esordire. Al 79esimo il raddoppio del Panama sembra spezzare le ali al Venezuela. Ma prima un rigore trasformato da Rondon riapre uno spiraglio e poi, nei minuti di recupero, a fondo di Savarino sulla sinistra, che mette in aria un grosso basso, dove l'attaccante del Pisa si avvenda prima di tutti e si regala un'emozione indescrivibile per il suo primo gol in gambo internazionale, che neanche il giallo, per essersi tolto la maglia, lo ha scalfito. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì una perturbazione atlantica attraverserà il nostro paese, coinvolgendo soprattutto il centro-sud, mentre al nord-ovest la situazione andrà temporaneamente migliorando. Osserviamo la grafica della nuvolosità che ci mostra gran parte del nostro paese alle prese con nuvole e piogge, infatti soprattutto al nord-est e sulle regioni centro-meridionali, proprio per l'avanzata di questa perturbazione atlantica, mentre al nord-ovest la situazione andrà temporaneamente migliorando. Osservando anche lo zoom delle precipitazioni notiamo come i fenomeni saranno concentrati soprattutto sul versante tirrenico, residui e pioggia al nord-est, mentre il contesto migliorerà al nord-ovest, anche se un'altra perturbazione si avvicinerà poi entro la fine di giovedì sulle regioni nord-occidentali. Vediamo dunque il tempo che ci attende sull'Italia. Nel corso di mercoledì sarà una giornata perturbata su molte regioni, specie del versante tirrenico con piogge, rovesci e anche qualche temporale che a più riprese bagneranno le regioni tirreniche in movimento verso il comparto adriatico. Residue piogge anche al nord-est, specie tra mattinata e primo pomeriggio, mentre la situazione andrà migliorando al nord-ovest. Tempo un po' più soleggiato sulle isole maggiori, qui con temperature ancora piuttosto elevate per il periodo a punte anche di 24-25 gradi sulla Sicilia, mentre la trovo e il contesto comunque sarà tipicamente autunnale, specie al nord-est e sui versanti tirrenici. Tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno Del Corso, Corso Vittorio Emanuele Servizio notturno Del Corso, Corso Vittorio Emanuele